E' stata affidata ad un padovano la realizzazione del nuovo mercato di Benjerville in Costa d'Avorio. Una delegazione dell'Ambasciata del Paese del Centroafrica è stata in visita nelle regioni del Triveneto in questi giorni, invitata dai nostri operatori economici per rafforzare la cooperazione bilaterale e la diplomazia economica, anche alla luce di una collaborazione di lunga data con Padova, che oltre al nuovo mercato comprende anche la realizzazione e il sostegno ad un ospedale ivoriano. E' un mercato con un progetto tutto italiano, soprattutto la nostra idea è quella di portare innovazione, portare un progetto green, un progetto dove ci sia comunque l'attenzione ai materiali che saranno italiani. AIREC, che è l'Accademia Europea per i Rapporti Economici e Culturali e Sita a Roma, ha costruito 15 anni fa questo ospedale in Costa d'Avorio a Songon, che è un paese molto vicino alla capitale a Pijan. Gli imprenditori che stanno nel Triveneto, ma specialmente Padova in questo momento, abbiamo due aziende che sono locate giù con attività importanti, stanno portando benefici a questo ospedale che va in qualche maniera rinnovato, manca del fotovoltaico, l'impianto idraulico è rotto. La scorsa settimana sono rientrato da una missione di due settimane in Costa d'Avorio, dove ho incontrato una delegazione italiana di 30 persone, con le camere consolari, SACE, Confindustria e diverse aziende, che sono aziende che già operano in Costa d'Avorio nell'ambito del rafforzamento bilaterale. La mia visita a Padova è proprio per portare il sostegno dell'ambasciata, in particolare a due società che già hanno avviato investimenti in Costa d'Avorio. Sono stati presentati progetti che verranno effettuati sul territorio della Costa d'Avorio e una particolare attenzione anche da parte mia è stata quella di richiedere e risottolineare l'importanza della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, della formazione. Grazie. 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 Grazie.